Ciao ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video, indovinate un po' di Monopoly Go. Ebbene sì, belli miei, siamo tornati su questo gioco che vi sta piacendo un sacco per fare un tutorial sugli eventi. Voglio spiegarvi come funzionano gli eventi, voglio spiegarvi perché effettivamente gli eventi su Monopoly Go sono molto molto interessanti. Quindi, questo è il tutorial dedicato agli eventi, l'ultimo è stato sulla Mega Rapina, spero che l'abbiate visto. Se ve lo foste persi non vi preoccupate, trovate la playlist Monopoly Go Ita, una playlist che può essere utile un po' a tutti, un sacco di tutorial che veramente secondo me sono tanta roba. Quindi andatele a recuperare perché sono molto molto interessanti. Ti ricordo inoltre di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella se i video fossero di tuo gradimento. Se invece vuoi anche seguirmi in maniera extra puoi accettare la mia amicizia su Monopoly Go qua sotto tramite il link in descrizione. Ed inoltre seguirmi su TikTok, sempre il link qua sotto in descrizione. Eccoci qua, 266 di patrimonio netto, mezzo milione da parte che abbiamo un po' messo da parte e oggi ci catapultiamo all'interno di questo tabellone. Abbiamo sicuramente molti dati da andare a prendere, tanti dati da utilizzare e quindi questo ci permette di avere delle libertà magari un po' in più rispetto a quello che può essere semplicemente una partita a parte di un ragazzo che non ha tutte queste disponibilità. Come vedete si iniziano a vedere subito i primi eventi, come funzionano. Qua entrano subito adesivi. Vi ricordo ragazzi di recuperare perché ho bisogno di adesivi. Se qualcuno di voi ha degli adesivi da parte ragazzi il vapor ne ha bisogno. Quindi siete fortemente richiesti ove fosse possibile. Mentre ci arricchiamo con varie cosette. Qua sicuramente sarà da pagare la prigione. Sapete che non sono molto fortunato con i dadi della prigione. Volevo fare un tutorial su come ottenere i dadi perché avevo scoperto un mini trucchetto ma a quanto pare non è possibile farlo. Comunque non si capisce bene su cosa sta succedendo. Comunque vedete che gli eventi sviluppano tantissime ricompense. La vedete la sfilata là sopra. Un altro milione e tre è entrato in the bank. E qua mi sa che c'è uno step grande di dadi. Si parla di 400 punti. Impossibile da raggiungere ma... Noi ragazzi non abbiamo nulla da perdere. Vi faccio inoltre vedere riguardo sempre gli eventi dove si trovano gli eventi. Perché molti di voi mi hanno detto che fanno proprio difficoltà a trovarli. E quindi mi sono chiesto ma porca miseria ma ragazzi ma come caspita è possibile che non trovate gli eventi. Ed effettivamente non è così intuitivo capire che queste cose qua che trovate qua. Vedete qua c'è il mio ditino che indica delle forbici. Delle robette particolari. Ragazzi sono degli eventi. Quei tondini li sono tutti eventi. Attualmente c'è l'evento della maratona memoriale. Che in caso di vittoria ragazzi ho distruzione, rapina in banca, un sacco di cose particolari. Attualmente sono cinquantanovesimo. Se vai avanti ti danno dei regali aggiuntivi che sono molto molto carini. C'è poi la rapina in banca. Danilo che ci ha fatto la rapina in banca da... Da sgravate. Completa un qualsiasi edificio per guadagnare 10 dadi e 189 mila. Di oro. Questo dovuto al fatto che c'è questa corsa alla tappa. C'è poi quella corsa... C'è uno che mi ha fatto una rapina da 263 mila. Così. C'è uno poi che mi ha fatto la sfilata alla tappeto rosso. C'è poi l'evento pupillo primo acquisto. E altre offerte infinite. Che ragazzi l'euforia in borsa va avanti. Scala delle offerte gratuite. Delle cose particolari. Sinceramente dopo un po' poi mi perdo e non riesco più tanto a seguire. Ma comunque in linea di massima è molto consigliabile da parte vostra fare questi eventi. Perché avete dei vantaggi sicuramente competitivi molto molto importanti. Detto questo noi andiamo avanti. Non voglio perdere troppo tempo. E quindi abbiamo la possibilità di muoverci abbastanza rapidamente. Dai e dai e dai. E' buono. Questa stazione est. Golosissima. Con questa mascherina nera. Con un per 10 importante. Per un 4 milioni totali di ricompense. Ti giuro che se mi è. Mi è uscita la grande rapina così. 3 milioni comunque. Nerd chilling. Nerd chilling proprio. Ci portiamo avanti con l'evento qua che vi ho fatto vedere prima. Vedete che stiamo ottenendo un sacco di ricompense. Questo ci porta ad ottenere dei regali. Nei regali solitamente ci sono adesivi. Ci sono dadi. Ci sono anche solitamente soldi. Ma dipende quello dalla fortuna che ciascuno di voi ha. O comunque anche lì la fortuna è relativa. Dipende da quello che effettivamente poi serve a voi. Comunque gli eventi sono molto molto interessanti. Sono gli eventi qua su Monopoly Go. Sono tutti temporanei. Quindi avete un tempo limite per completare determinate. determinate diciamo richieste, ricompense da sbloccare, cose di questo genere. Qua comunque noi stiamo andando veramente veloce. Abbiamo l'opportunità di alloccare quasi tutti e quattro gli edifici al penultimo step. Si è messi molto bene. Cioè devo dire che sto droppando tantissime case sul tabellone. Questo ci permette di ottenere un vantaggio competitivo niente male. Vedete che qua riusciamo ad andare rapidamente, ad ottenere tutte le nostre ricompense. Passiamo dal via, passiamo da quell'altro. E la rapina è sicuramente una delle cose che maggiormente ti agevola. Almeno da quello che ho visto io la rapina agevola veramente tanto. Molto più della distruzione. La distruzione eventualmente si può essere... Almeno io la considero nerfata perché non mi dà più quello che mi dava una volta. Cioè la vedo molto 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 meno potente sotto alcuni punti di vista. Almeno forse è la mia sensazione. Qua naturalmente non posso tirare più. Mi vengono spammate qualsiasi cosa. Ho l'ultimo per tre che vado ad utilizzare molto volentieri. Ci permette di ottenere altri sei gingillini gialli che vi ripeto servono per portare avanti l'evento della sfilata. Detto questo con il milione e sette che ci abbiamo da parte. Sinceramente per quanto mi riguarda conviene investirlo in questo edificio qua che almeno completiamo. Purtroppo non riesco a salire sti caspita di fiordi di Fostegard perché mi rimane sempre quel pochino. E porca miseria ladra non riesco mai a farcela. Qua nel mentre i miei amici mi fanno rapina in banca a stecca. Quindi porca miseria amici del cavolo. Cioè mi rubate veramente tutto. Questa è la mia lista amici. Vi ricordo che ho fatto anche un video di come ho fatto ad ottenere il primo al mondo. Di cosa è successo di quello e quell'altro. Fatto sta che attualmente ho 216 amici. Il primo in Italia conta 16.000 a livello di patrimonio netto. Il primo al mondo ragazzi 16.990. E papà smurf. Ragazzi sto papà smurf c'è da tantissimo tempo che va avanti. Nel mentre c'è Anna che decide di buttarmi giù un edificio in live. Porca miseria Anna ma tienimelo fermo a sto edificio. Cioè perché mi devi distruggere degli edifici. Non ho veramente parole. Comunque c'è l'offerta infinita. Le offerte infinite è quest'altro. Quindi nella parte sinistra c'è maggiormente la parte di shopping. Quindi i vantaggi che ho se pago. E nella parte destra ci sono vantaggi. Quindi questi qua che vedete più davanti a me. Sono dei vantaggi che invece sono proprio vantaggi operativi. Quindi vi danno un vantaggio magari in un surplus di qualcosa. Oppure vi danno degli sconti. Delle ricompense aggiuntive. Insomma molto carino a livello proprio di marketing del gioco in sé per sé. Sinceramente l'ho apprezzato un sacco. E spero che l'abbiate apprezzato anche a voi. Detto questo video di oggi termina qua. Io spero che vi siete rivertiti. E spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così come al solito like, iscrizione, attivazione della campanella. Mi raccomando attivate questo caspita di commento. Perché qua sotto ragazzi c'è la lista commenti. E la maggior parte di voi si dimentica sempre di andare a commentare. Oggi andiamo a parlare poi nei prossimi video di cose molto molto interessanti. Che so che vi interessano soprattutto anche a voi. Quindi mi raccomando fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani all'arro 14 con un nuovo video. Ciao belli.